Assamminiato in località di Ponta Egola, nel 2002 è stata fatta una convenzione per costruire appunto, per costruire nove appartamenti dell'inizia popolare e questa convenzione è stata poi cambiata con un piccolo cambiamento anche del prezzo concordato che da 1431 a metro quadro veniva poi invece venduto nel 1510. Oltre a questo nel 2009 vengono consegnati gli ambienti e nel 2009 sempre la cooperativa Primavera 90 va in fallimento. I proprietari, cioè quelli che dovevano essere i proprietari degli appartamenti, degli immobili, hanno versato l'intero importo pattuito ma non hanno rogitato. Quindi ad oggi queste persone si trovano a non essere effettivamente i proprietari delle case che hanno pagato per il prezzo concordato. Noi riteniamo che l'amministrazione abbia una responsabilità, avrebbe dovuto controllare, avrebbe dovuto tutelare quelle che sono gli interessi dei propri cittadini che, come diceva prima anche il consigliere Cantone, sono stati a questo punto truffati. e rischiano di dover o ripagare l'intero importo dell'immobile o comunque rischiano di perdere la casa.